Due sono per asciugarsi la fronte. Ahissi. Come ha detto Marco Carollo, dovrei togliervi un bottone per ogni canzone fatta, dovrei essere al quarto. Tra l'altro è uno di quattro. Comunque, so che il posto è piccolo, ma... Viniti a fare solo perché Marco vuole avermi... Cioè, vogliamo poco. Un po' più chino. Viniti a fare dei passetti. Fate... Guido dice di fare dei passetti. Nexus! Non è ancora avvenuto il momento di Texas. È il momento di... È il momento di... La caccella preferita delle donne è K.K.L.A. Dammelo, prengilo. No, prengilo è una cosa molto romantica. Feel it. Make it feel it. Allora, vediamo con il chanel suonare. Eh, sto aspettando di via. Damn it.